Qual è il segreto per arrivare a cent'anni? Non ho mai preso un addogno, non ho mai sparato un corpo di cugino e di rivoltezza. C'è postito e evitato sempre. Mai fatto. Ho fatto cose normali, nella vita. Ma il vino l'ha bevuto? No, sono detto ora, hanno fatto. Vieni a Torniera, avevi tante belle cose da dirgli la mia esperienza. E allora? Io allora vengo a trovare? Vengo, ho tante cose dentro di me che ti voglio dire. E io vengo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Cento di questi giorni. Rosalì.